Grazie. La prima slide che vi presento è una sorta di puzzle che ho voluto comporre usando una decina di fotografie più o meno di razze di cani moderne per farvi vedere in realtà già a colpo d'occhio quanto differenti possano essere le moderne razze di cani che tutti noi conosciamo, chissà che qualcuno di voi, magari uno di questi non ce l'ha anche a casa. Vi dicevo sono circa una decina ma in realtà l'ENCI, l'ente nazionale della cinofilia italiana che poi nei suoi standard si rifà all'FC, la Federazione Cinologica Internazionale a oggi o meglio al 2014 aveva classificato e registrato circa 340 razze di cane che sono veramente tante. Sono tante, hanno caratteristiche morfologiche estremamente differenti come potete vedere, si va dalle dimensioni al tipo di pelo, al colore del pelo. Strano ma vero, tutti questi amici a quattro zampe in realtà hanno un unico progenitore che è il lupo. Quindi tant'è che se andate a vedere la nomenclatura binomia di Linneo sia il cane che il lupo sono Canis lupus, poi Linneo 1753. Quindi si esclude qualsiasi tipo di rapporto intanto con altri animali come potrebbe essere lo sciacallo che è sempre della stessa famiglia ma è Canis saureus o il coyote Canis latrans. Qui siamo praticamente tutti, sono, non noi, loro, sono tutti discendenti del lupo. Questa è una tomba, è la tomba H104 del sito natufiano di Einmalaca che è una località del nord di Israele, si data al 9600 a.C. circa ed è la prima prova archeologica tangibile di un legame affettivo fra l'uomo e il lupo barra cane. In realtà ancora non sappiamo se era proprio un cane ben formato o ancora un lupo colto nella sua trasformazione. Questa è, no scusatemi, ho sbagliato, ci devo prendere la mano anch'io. Allora, questo è lo scheletro di un'anziana donna che era sepolta in questa tomba. Ora voi non so se riuscite a vederlo, ma qua praticamente lei appoggia la mano su un mucchietto di ossa che in realtà sono le ossa di un cucciolo di canide, chiamiamolo canide, che è più sicuro. Ecco, non è che questo lupetto, cagnolino, è stato posizionato nella tomba come banale offerta. Questo sta proprio sotto la sua mano. C'è un gesto qui che è inequivocabile ed è la prima prova di questo legame affettivo fra l'uomo e il lupo cane. Ora, questo è il mondo preistorico. Io mi sono occupato in realtà di civiltà classica, quindi qualcosa che è avvenuto molto dopo e per cui noi abbiamo un sacco di fonti letterarie ed epigrafiche che ci permettono di fare numerose considerazioni, ma che per contro poi pongono anche un sacco di problemi. Io ho provato a sintetizzare in questa diapositiva la maggior parte delle problematiche. Innanzitutto, dalle fonti letterarie emergono i primi problemi per quanto riguarda il concetto di razza di cane. Gli antichi conoscevano la pratica della selezione, sapevano che potevano accoppiare determinati esemplari per ottenere ulteriori esemplari dotati di particolari caratteristiche e nelle fonti antiche voi trovate circa 50 nomi differenti di razze di cani. Se andate a vedere, questi animali sono nominati per lo più a partire dalla loro terra d'origine, dal popolo, dall'eroe che li avrebbe selezionati secondo la storia o la mitistoria, da caratteristiche fisiche o ancora dal tipo di impiego della singola etnia. E già questo, che sembra un dato da prendere così, pone non pochi problemi. Perché io per esempio mi sono chiesto, ma il cane di Laconia, per esempio, esiste un cane di Laconia, poi viene nominato un cane di Sparta, che sta in Laconia, poi viene nominato un cane di Castore, che è un eroe spartano, che quindi sta in Laconia. Io mi chiedo, ma tutti questi cani erano tutte razze differenti effettivamente o talvolta potevano essere anche nomi che indicavano una stessa razza? Aristotele ci parla di cani dicendoci il cane è laconico, che però viene chiamato anche per dire allopecide, quindi in realtà ci sono più nomi che fanno riferimento a una medesima razza. E già questo è un problema, forse questo numero si potrebbe anche scremare. Non sempre i dati delle fonti possono essere accolti e utilizzati come sicuri, soprattutto per le razze più esotiche. Un esempio per tutti, i cani indiani. I cani indiani sono descritti dalle fonti antiche, sono cani dal pelo tigrato. Come mai hanno il pelo tigrato? Beh, è ovvio, perché sono nati dall'accoppiamento di un cane con una tigre. Ovviamente è zoologicamente impossibile, è biologicamente impossibile, ma questo vi rende anche l'idea di, mano a mano che ci si allontana da quello che è il mondo greco, le conoscenze anche degli antichi andavano rifacendosi e quindi poi alle conoscenze quelle più oggettive sull'animale andavano mischiandosi anche dati fantastici. e quindi anche qui bisogna operare con estrema cautela. Per quanto riguarda l'arte antica, io mi sono occupato soprattutto di arte greca, si conoscono invece una serie di tipologie abbastanza ridotte come numero rispetto a quel grosso numero di fonti antiche che vi ho nominato. E raramente queste tipologie appaiono identificabili come razze ben precise, cioè è difficile prendere un cane disegnato, rappresentato su un qualsiasi tipo di supporto e dire bene questa è la razza XYZ. Ora vi spiegherò poi perché. Sicuramente è anche uno dei motivi che ho, vi è anche per il problema della natura stilistica. Se prendete un reperto che si data al periodo classico ellenistico, avrà una caratterizzazione, un modo di essere raffigurato che sarà più dettagliato e più fedele alla realtà che non per esempio un reperto dell'età orientalizzante, cioè del VII secolo a.C., o addirittura uno dell'età geometrica, VIII secolo, dove le forme sono molto più stilizzate. E poi da ultimo abbiamo i reperti osteologici, che uno potrebbe dire, beh, uno si occupa di archeologia, vuoi non andare a prendere in considerazione anche gli scheletri, ma gli scheletri sono comunque problematici anche per conto loro, perché lo scheletro vi permette di fare delle considerazioni di carattere morfologico sulle dimensioni, sulle proporzioni, ma ovviamente se trovate uno scheletro avete appena perso tutto quello che è l'apparenza del cane, si dice i fenotipi, cioè i caratteri esterni visibili, la forma delle orecchie, la grandezza del naso, il colore del pelo, il tipo del pelo, quindi questo non è che ci aiuta poi tantissimo nella definizione delle razze. Allora, com'è che io mi sono mosso? Io sono partito proprio dall'analisi di questi fenotipi etnici, cioè le caratteristiche visibili, osservabili dell'animale. Nello studio, ecco, come vi ho detto, è preferibile evitare l'impiego del termine razza, perché altrimenti ci si incarta, e mi ci sono incartato anche io ai primi tempi, sforzandosi di delineare invece una più neutra tipologia. Ogni tipologia può essere definita sulla base dei fenotipi, cioè delle caratteristiche osservabili, questo ve l'ho detto. Una volta definita una tipologia di base per i fenotipi, solo allora si può tentare di ricorrere alle fonti antiche, quelle della letteratura e dell'epigrafia, per provare ad avanzare un'ipotesi di identificazione. Partiamo con un esempio perché è la cosa migliore. Quello che vedete qua è un monumento funerario greco che rappresenta un bambino chiamato Filocrate. Questo è morto probabilmente intorno all'età di dieci anni, anche se poi le figure rappresentate sulle stelle attiche sono abbastanza standardizzate come soggetti. E lo vedete che gioca con un cagnolino, eccolo qua, che è di piccole dimensioni, dal pelo abbastanza folto, lungo, ha delle orecchie a punta che sono piegate indietro in questo caso, anche il muso è affusolato ed ha una coda arricciata e altrettanto folta come è il manto. Lo trovate rappresentato anche su altri tipi di reperti, questo qua per esempio è una statuetta molto bella fra l'altro, questa è del Museo Nazionale di Atene, chiamato The Little Refugee, il piccolo profugo, perché è arrivata nel museo nel 1922 quando i greci e gli armeni stavano fuggendo da Izmir, dall'antica Smirne, per via delle persecuzioni dei turchi e rappresenta un'opera d'età romana copia da un originale ellenistico con l'immagine appunto di un bambino nell'atto di sollevare questo cane, come fanno i bambini, quando non riescono ad alzarlo con le mani perché non hanno abbastanza forza, lo abbracciano e lo tirano su con tutto il corpo. Poi avete una terracotta ellenistica e qui lo vedete chiaramente, guardate la coda, guardate le orecchie a punta e questo invece è un cus, una brocchetta di fattura attica con il solito tipo di cane. Per questo cane possiamo avanzare un'ipotesi di identificazione certa, qui vi ho scritto il cagnolino di Melite, perché seppure le fonti antiche non ci descrivono questo cagnolino di Melite che è onnipresente, non abbiamo descrizioni precise e puntuali, ma è diffusissimo. Loro si limitano a dirci che è un cagnolino, è piccolo, Aristotele ci dice che è più o meno delle dimensioni di una martora, di una ictis, con questo mi hai detto tutto. In realtà noi siamo abbastanza fortunati perché possediamo una rappresentazione vascolare, che è questa qua, è un disegno perché il vaso originale è andato perso, ma si conserva ancora oggi la rappresentazione, quello che c'era disegnato sopra sulla superficie e vedete che è un giovane uomo che ha ai suoi piedi un cagnolino che seppur un po' più stilizzato, ma i fenotipi, le caratteristiche sono quelle che vi ho mostrato prima, che si rivolge a lui con questa specie di fumetto e gli dice Melitaie, quindi è chiaramente il cagnolino di Melite, quello che i greci chiamano il Melitaion Chionidion. Un secondo esempio è quello del cane che io ho chiamato Segugio, Segugio nel senso di cane atto a inseguire selvaggina, una selvaggina di media piccola taglia ed è questo qua, questa è la stelle dell'Ilisso, sempre del Museo archeologico nazionale di Atene e lo vedete ai piedi di questo giovane uomo. Lo ritrovate anche su questa statua funeraria da Salamina, su questa piscide del Woltersart Museum di Baltimora e su questa Lekitos del pittore di Pan. Questo è un tipo di cane chiaramente utilizzato per la caccia perché ha una fisionomia tale che gli permette di essere impiegato a questo scopo e nelle fonti a questo tipo di fisionomia corrispondono diverse razze di cani fra cui io vi ho segnalato in particolare sono il cane di Laconia, il cane di Creta e il cane di Caria. Allora io vi faccio vedere questa slide. Non ci sono identificazioni certe ma c'è un'ipotesi di identificazione. Questa è una stelle funeraria attica che è conservata oggi a Basilea sempre dell'età classica e è dedicata a due uomini deceduti Apollo d'oro figlio di Lacono e Lacono figlio di Lacono. Normalmente sulle stelle noi ci saremmo aspettati di vedere il defunto con eventualmente i suoi cari congiunti e poi un cane che l'accompagnava. Qui i defunti non ci sono ma c'è il cane di Laconi scusatemi, un cane di tipo Segugio che sta qua su in cima e che sta piutando il terreno. Quindi vi rimanda ancora una volta all'idea del fiuto di questi cani da caccia. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che questo potesse essere proprio il cane laconico cioè il cane di Laconia. Perché? Perché ci potrebbe essere stato un gioco, un rimando fra il nome del defunto Lacono e il nome del padre dei due che si chiamava Lacono come il secondo genito e quindi questo potrebbe essere un'immagine del cane di Laconia. Che tipo di cane doveva essere? Ve lo posso avvicinare, con questo non sto dicendo che questi cani che vi mostro siano i diretti erediti perché andrebbe provato da un punto di vista storico e genetico però come fenotipi, come tipologia può essere associato a un podenco lo vedete qua, guardate le orecchie dritte il muso con un tartufo importante un corpo snello tipo quello del levriero ma un po' più robusto il levriero è un pochettino più scheletrico nelle forme e la coda snella e arricciata volendo il podenco esiste anche in una forma concedetemi il termine ridotta che è il cirneco dell'Etna questo qua, di solito con questa colorazione rossiccia del pelo e questo è praticamente nelle forme un podenco in miniatura è avvicinabile secondo me a questo poi ripeto, con questo non voglio dire che il podenco sia il diretto discendente del cane di Laconia un terzo esemplare ed eccolo qua vi ho messo il cane, uno dei due cani degli Uffizi che poi non sono solamente questi due ma se andate ai Vaticani ce ne sono altre due che sono chiaramente sempre repliche dello stesso tipo un'altra, il Jennings Dog, si trova al British Museum quindi non ce ne sono poi solamente due era un soggetto molto famoso in antico anche se non sappiamo se doveva avere una destinazione funeraria o votiva e poi vi ho messo due esemplari attici questo è al museo del Pireo viene dalla necropoli del Pireo questo qua invece è del ceramico di Atene e poi vi ho messo un esemplare anche romano questo è dalla necropoli di Aquileia è una pseudocista cioè dovrebbe rappresentare un contenitore per le ossa del defunto che però è pseudo nel senso che è marmo pieno non è cavo all'interno non ha uno spazio per accogliere i resti del defunto ed è interessante perché sulla cista è rappresentato un cane di tipo molosso accovacciato che appunto sembra fare la guardia al padrone qui c'è da fare una piccola puntualizzazione questi sono tutti cani tipo molosso però se ora io vi faccio vedere le caratteristiche del molosso così come ci sono riportate dalle fonti guardate il molosso ha la bocca carnosa vi ho messo qui l'immagine di un cane corso che è considerato il diretto erede del molosso antico la bocca carnosa di colporatura robusta la testa grossa, le orecchie piegate il petto ampio e peloso le zampe massicce e la coda corta e poi ci dicono il colore ideale è il nero perché essendo un cane da guardia la notte si mimetizza meglio nell'oscurità e il ladro non lo vede e viene preso conclusa questa prima parte ora vi parlo velocemente delle valenze e dei significati del cane e vi ho messo una figura controversa perché se per noi il cane è una figura tutto sommato positiva nella nostra cultura per gli antichi aveva luce e ombre lati chiari e lati scuri il cane è solitamente percepito come un animale fedele ma all'occorrenza può rivelarsi anche un ingordo e un opportunista questo lo vedete chiaramente se vi prendete le favole di Esopo il cane condivide gli stessi ambienti dell'uomo addirittura pensate alla mensa dell'uomo esistevano dei cani in antico chiamati proprio cani da mensa chiunestra pezzees perché venivano, lo vediamo anche sulla ceramica e nelle arti in generale legati con un guinzaglietto alla mensa del padrone ma praticamente mangiavano gli avanzi quello che il padrone non mangiava lo lanciava a terra il cane lo mangiava pur condividendo gli stessi spazi di vita del padrone in realtà il cane sa anche essere un animale estremamente sporco e disinibito l'amitezza e l'amore del cane per il padrone possono essere talvolta oscurati dalla follia di cui il cane cade preda e dalla sua ferocia e qui avete l'esempio lampante di Atteone Atteone famoso cacciatore del mito che a un certo punto vede Diana nuda mentre fa il bagno in una fonte viene punito, viene trasformato in un cervo o a seconda delle fonti sono i cani che lo vedono impazziscono e lo vedono nelle forme di un cervo e viene sbranato vivo dai suoi stessi cani che pure gli volevano tanto bene e poi la sua presenza è tanto associata alla fertilità e alla nascita quanto alla dannazione al mondo dei defunti questa slide l'ho intitolata il miglior amico del cane che è in senso ovviamente provocatorio perché se il cane è il miglior amico dell'uomo l'uomo ogni tanto fa delle cose al cane che non sono proprio da miglior amico vi ho messo tra pratiche cultuali, magie e medicina popolare sembra strano ma è così il cane in antico era un animale che rientrava nel novero di quelli sacrificabili agli dei in Grecia e a Roma c'erano diverse divinità che chiedevano sacrifici di cani in Grecia Ecate, la dea della stregoneria a cui era offerto il sacrificio di un cucciolo in particolare il perischiulachismon ce ne parla Plutarco quindi insomma non proprio grandi amici poi c'è tutto il discorso della medicina il cane può essere consumato in toto o in parte a scopo terapeutico per la verità Pino il Vecchio è il primo che dice queste pratiche esistono ma più che medicina è veramente folclore e magia questa qua per esempio chi veniva morso da un cane idrofobo per essere protetto dall'idrofobia doveva consumare le ceneri della testa doveva mettere scusatemi le ceneri della testa di un cane sulla ferita oppure consumare come cibo la carne salata di un cane il cane però può anche curare senza necessità di dover essere fatto a pezzi e consumato questo è il caso dei santuari di Asclepio Asclepio è legato intimamente al cane perché quando era piccolo secondo il mito era stato abbandonato sul monte Tizione e una cagna l'aveva trovato e l'aveva allattato quindi è un dio che ha un rapporto particolare con i cani tanto particolare che se andate a vedere per esempio nell'Asclepieion del Pireo ho trovato i resti di una prescrizione rituale che parla di offerte a tutta una serie di divinità legate ad Asclepio Apollo maleata Iaso Acheso e Panacea che sono tre sue figlie e poi c'è un'offerta ai cani e ai cacciatori con i cani questi non sono probabilmente cani reali sono cani di carattere divino quindi ricevono offerte sugli altari come anche questi personaggi che vi ho elencato poi ci sono anche non ve le ho messe ma ci sono anche delle testimonianze interessanti dal Peloponneso che parlano di bambini guariti dai cani di Asclepio in particolare un bambino cieco e un bambino che aveva un tumore nel senso di un gonfiore sul collo si recano al santuario di Epidauro come entrano dentro questi cani di Asclepio gli vanno incontro gli danno una bella leccata uno sugli occhi e uno su questo gonfiore e i bambini guariscono e allora lasciano queste stele a ricordo appunto di questa guarigione miracolosa i cani sono compagni nella vita e oltre la vita vi ho messo questo pezzo dell'Odissea che non sto a leggervi tutto è l'incontro fra Odisseo e Argo lo sapete dopo 20 anni che Odisseo è lontano dalla patria torna a casa e l'unico che lo riconosce sotto le mentite spoglie dopo l'incantesimo di Atena che l'aveva invecchiato è il cane Argo che è sdraiato su un letto di letame pieno di zecche perché ormai nessuno se ne cura più ma quando questo vecchio gli passa vicino il cane Argo abbassa le orecchie e scodinzola perché riconosce il padrone solo che non ce la fa ad alzarsi e resta lì sdraiato e Odisseo per non tradirsi è costretto a girare la faccia e piangere perché appunto questa scena lo tocca un altro problema in realtà che è quello dell'offerta del cane come parte del corredo quindi l'offerta del cane nella tomba, nel sepolcro ed è qualcosa che risale fino all'età micenea e lo si ritrova anche nei poemi omerici Patroclo quando muore gli viene allestito un funerale eroico da parte di Achille e fra le offerte funerarie che vengono poste sulla pira ci sono anche due dei suoi nove cani che vengono sgozzati e gettati fra le fiamme questo è qualcosa che effettivamente si trova cioè il sacrificio dei cani esiste già nelle tombe micenee e prosegue per tutta la Dark Age fino agli inizi dell'età dell'età del ferro quando poi piano piano scompare e si cominciano a trovare dalla tardetta arcaica i primi accenni a sepolture di animali che non sono più sacrificati ma sono sepolti in quanto tali cioè c'è un discorso di affetto di amore che permette quindi di dargli una sepoltura a parte trovate poi ora non ve li leggo tutti perché altrimenti non si finisce più però ci sono sia i primi due sono epitaffi cioè iscrizioni funerarie ce ne sono tantissime vi ho messo queste qua perché secondo me erano carine concludo con l'ultima slide e poi mi taccio ho scritto quando il destinatario potrebbe non essere un cane attenzione perché non tutte le volte che trovate un reperto che potrebbe essere apparentemente collegato a un cane è nella realtà stato collegato a un cane la prima è questa stele di Malibu di Villaghetti è un'opera della seconda metà del secondo secolo dopo Cristo ed è la cosiddetta stele di Elena questo invece è molto differente è un collare con una medaglietta che dice in latino trattienimi, non lasciarmi scappare quando mi avrai ricordato al mio padrone Zonino riceverai in cambio un solidum si è invece dedotto che questo era effettivamente il collare di uno schiavo vi ringrazio e vi saluto lasciandovi questa immagine di sfondo che è un mosaico bellissimo trovato negli scavi di Alessandria d'Egitto nel 1998 quando lavoravano alla nuova biblioteca alexandrina la struttura che eredita un po' concettualmente quella che era l'antica biblioteca dei Ptolemei ed è bellissimo perché questo mosaico del terzo secondo secolo avanti Cristo rappresenta questo cane che ha appena rovesciato una brocca e guardate è una cosa estremamente naturalistica perché lui sta guardando da un'altra parte con il muso ma gli occhi sono voltati verso lo spettatore e fissano con quell'atteggiamento tipico del cane che sa di aver fatto qualcosa di sbagliato ma fa finta di nulla nella speranza che il padrone non lo sgridi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti